Presidente Meloni, eccoli, bella roba, bella roba, bella roba, almeno questo c'è rimasto, avete fatto le vittime per un'ora, senza rispondere a una domanda su come funzionerà questo centro, fuori dall'Europa, si vergogni Presidente, si vergogni, ne parliamo quando vuole, ma non in questo modo. Un miliardo per fare lost spot elettorale, lost spot elettorale.